Ciao a tutti, in questo momento le difficoltà e il dolore voglio dare un messaggio di incoraggiamento e ringraziare i medici, gli infermiere e tutti i personaggi sanitario perché da più di un mese stanno lottando una vera e propria guerra per l'Italia voglio dire che noi non siamo medici, noi non siamo infermieri ma noi dobbiamo fare la nostra parte dobbiamo restare a casa, dobbiamo rispettare tutte quelle regole che vengono imposte e soltanto così possiamo aiutare a tutti quelli che stanno lottando contro questo virus possiamo aiutare a quelli che amiamo, che non ci vogliamo, a loro che succeda nulla e dopo soltanto così possiamo aiutare ai nostri paesi perché pure la Spagna è in una situazione di difficoltà come l'Italia ma sono sicuro che uniti riusciamo a vincere questa sfida restate tutti a casa, andrà tutto bene e come sempre forse spezia